Sapevamo che era malato, ma abbiamo voluto credere che ce l'avrebbe fatta e sarebbe tornato a raccontarci le città alate, la storia e la bellezza del nostro paese con quel suo inconfondibile modo, metà per il serio e il facetto. Attraverso le sue trasmissioni televisive, Filippo D'Averrio ha fatto conoscere agli italiani una cultura fatta di vicende, alte, basse, personaggi del quotidiano, aneddoti curiosi, parole nuove arcaiche, in sostanza il linguaggio della realtà. A Ferrara, dove è venuto diverse volte e alla quale dedicò nell'ottobre 2012 una memorabile puntata di Passepartout, storia di una famiglia per bene, protagonisti degli estensi, lo ricordiamo in un vivacissimo incontro e click forward organizzato al mercato coperto di Santo Stefano da Città della Cultura a Cultura della Città, il 6 ottobre, sempre del 2012, durante il Festival di Internazionale. In quell'occasione, intervistato da Gianfranco Franz, allenario di urbanistica dell'Università di Ferrara, D'Averrio parlò di cultura e di architettura, convinto, come dichiarò, che si poteva passare dal ripensamento degli spazi urbani per trasformare l'Italia. Il riferimento allora era al progetto di rigenerazione urbana del mercato coperto, definito da lui una piccola rivoluzione dei ferraresi, che, disse, avrebbero dovuto resistere per portarla fino in fondo, come in me, finora non è avvenuto. Saggista, critico d'arte, conferenziere e anche assessore, dal 1993 al 1997, nella giunta a Formentini del Comune di Milano, dove aveva le deleghe alla cultura, al tempo libero, all'educazione e alle relazioni internazionali, da divulgatore a giornalista e conduttore a televisivo, ha inventato un genere, a partire dalle sigle, che prima di lui non c'era, con le sue indimenticabili puntate, di Passepartout su Rai 3, seguito poi dal Capitale, nel 2011 su Rai 5 da Emporio d'Averio, una proposta di invito al viaggio attraverso l'Italia. Ha collaborato con riviste quotidiane, pubblicato Pierezzoli, è stato direttore del periodico d'arte, arte e dossier, consulente per la casa editrice Schirà, ha insegnato storia dell'arte presso la Iulm di Milano e storia del design presso il Politecnico di Milano e fino al 2016 ha ricoperto l'incarico di professore ordinario di disegno industriale presso l'Università degli Studi di Palermo, tra le sue collaborazioni anche quella con Vittorio Sgarbi, che lo volle nella sua giunta del Comune di Salemi come bibliotecario. Emblematica oggi la frase di Cordoglio che ha voluto dedicargli Alessandro Gassman, Filippo D'Averio, con lui si perdono cultura, eleganza e umorismo, una rarità.